Mara Venier, sono stata molestata da un politico importante Mara Venier confessa di aver subito delle molestie da parte di un politico famoso. Anche Mara Venier è stata molestata nel corso della sua vita. All'indomani del caso Weinstein, pure la conduttrice e giurata di Tussi Cuevales ha voluto raccontare aneddoti e retroscena mai svelati prima d'ora. La moglie di Nicola Carraro lo ha fatto in una lunga intervista rilasciata al settimanale Oggi, nel numero in edicola giovedì 16 novembre. Ripercorrendo i suoi 60 anni, la Venier ha portato a galla avancese esuberanti e vere e proprie molestie. Ne ha viste e subite davvero tante e solo oggi ha trovato la forza e il coraggio di parlarne apertamente, come sta accadendo in questo periodo a tante attrici e showgirl. . Mi ha molestato un politico molto importante. E non solo E. . Quella cui stiamo assistendo è un'ondata di denunce, ricordi, segnalazioni molto composite in cui si sta perdendo un po' la distinzione tra i vari episodi che la compongono. . Un conto sono gli stupri, un conto le molestie sessuali e un altro quelle che io chiamo avancese esuberanti ha spiegato la Veniette, al momento impegnata in tv con il format di successo del sabato sera. . E tra una confidenza e un'altra, Mara ha raccontato di un episodio letteralmente agghiacciante. . 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